ciao ragazzi vedete sto mettendo un po posto un po di cose perché perché oggi è la vigilia di natale quindi andiamo a preparare un po di cose io sto preparando mi sto organizzando qui e poi si va a festeggiare la vigilia la vigilia di natale aspettando il natale quindi oggi che vi voglio dire oggi è solo un video di ringraziamento ed è un video di auguri di auguri di un felice sereno natale e un bellissimo anno nuovo quindi non mi resta che salutarmi è stato un anno molto impegnativo abbiamo fatto abbiamo cercato di fare i video sempre di più quello che potevo anche con il tempo perché il tempo ahimè è poco è tiranno però cercherò di darvi sempre di più in questo canale e speriamo che in questo anno sia maggiore sia maggiore di contenuti di eventi e molto altro ancora io me lo sento spero che arrivino altre novità io qualcosa già ho in pentola e sicuramente a voi vi piacerà ve lo garantisco quindi questo è solo un video di ringraziamento perché senza di voi non sarei qui non sarei qui a fare dei video non sarei qui a preparare lo studio per i prossimi video e a organizzare le nuove cose quindi grazie 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 e dopo questo video vi ringrazio andate a festeggiare tutti quanti mi raccomando ve lo meritate tutti dal primo all'ultimo e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale mi raccomando se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale lascia un like e scrive un messaggino degli auguri cercherò di rispondere a ognuno di voi tanti auguri a tutti e grazie ancora ciao